Il pesante odore di incenso divenne insopportabile. Mike si avvolse nella semi-oscurità della sala della chiesa. Con lo sguardo assente osservava il sacerdote che agitava l'incensiere con voce monotona mentre intonava l'orazione funebre, avvolgendo il campo di fumo. La semplice bara di quercia con il fedele. La folla che si era radunata per accompagnare Natalie nel suo ultimo viaggio rispose alle azioni del religioso con singhiozzi sommessi e ondeggiamenti pacifici. Per Mike tutto ciò che lo circondava cessò di esistere. Vedeva solo il viso pallido di sua moglie, perennemente immobile. Sembrava che stesse solo dormendo e che stesse per svegliarsi. Le sue palpebre sbattevano, le sue labbra si incurvavano in un morbido sorriso. E Natalie le porgeva abitualmente il suo buongiorno, amata. Ahimè, era solo un'illusione. Rose bianche come la neve, rose che riempivano la bara. Guardando i fiori preferiti di sua moglie, Mike lasciò involontariamente cadere una lacrima. Nessuno lo avrebbe giudicato per aver pianto. Non qui, di sicuro. L'uomo spostò lo sguardo sulla fiamma della candela che ardeva nella sua mano. È così che un uomo pensa di bruciare. Brucia. E poi una forza sconosciuta spegne la sua fiamma. Tutto qui. È possibile che una giovane donna sana, una moglie e una madre amorevole se ne vada così? Chi decide quanto tempo dobbiamo vivere? Perché alcuni sono destinati a vivere un'esistenza miserabile, a soffrire la povertà con le malattie. Ma a vivere? Altri sono derubati da Dio della loro felicità al culmine. Natalie ha lasciato questo mondo. Mai più la sua risata risuonerà nell'aria. Mai più le sue mani gentili leniranno e i suoi occhi profondi inonderanno tutto di infinita compassione. E che senso ha incolpare qualcuno ora? Voglio dire, non c'è modo di riaverla indietro. Mike, come te la cavi? chiese William, il suo più vecchio e fidato amico. Quando la bara è stata caricata sul carro funebre, non riesco ancora ad accettare il fatto che lei sia lì dentro. Mike fece un cenno con la testa verso l'auto nera. Mi hanno sempre insegnato che un uomo deve sopportare tutte le sfide che il destino gli propone. Ma una cosa è parlare, un'altra è affrontarle di petto. Ora non so come guardare negli occhi mia figlia. Alice non è abbastanza grande per rendersi conto della perdita. Dopo l'incidente, quando le ho detto che la mamma non c'era più, si è come ritirata. Per una bambina di sette anni è uno shock sapere della morte di una persona cara. Ma come potevo mentirle? Perché farla sperare di non avere nulla? Perché si spaventasse ogni volta che sentiva entrare qualcuno? Ipnotizzare il telefono o la porta d'ingresso? No. Non ho il diritto di essere ingiusta con mia figlia. Sta vivendo un dolore terribile in questo momento. Ma è meglio così. Abbiamo l'un l'altro. E farò tutto il necessario per rendere Alice di nuovo felice. Non importa quanto sia difficile. Hai ragione, annui William. Sono stupito dalla tua capacità di recupero. Se hai bisogno di aiuto, sei il benvenuto. Non pensarci nemmeno. Grazie. Mike diede una pacca sulla spalla al suo compagno. Ora non restava che imparare a vivere senza Natalie. Non era solo una moglie e una madre. Era una donna. Aveva un modo di far diventare tutto intero, pieno di significato. Anche il più piccolo dei problemi, lei riusciva a farne buon uso. Io non posso farlo. È grazie a lei che sono quello che sono oggi. Se solo mi avesse ascoltato allora, se fosse rimasta a casa. Le donne sono testarde. Lei è rimasta da sola. Perché? Perché è andata via? Mike scoppiò in lacrime. Immediatamente alcune persone cominciarono ad avvicinarsi a lui per confortarlo e per porgergli ancora una volta le condoglianze. Ma Mike non li ascoltò. Rispondeva automaticamente. Annuiva. E i suoi pensieri erano rivolti a colui che un tempo aveva amato più della sua vita. Michael non ricordava il funerale o la veglia funebre. Era tutto finto, inscenato. Discorsi di lutto, lacrime. L'uomo era grato ai parenti della moglie che si erano presi la briga di organizzare il funerale. Tutto ciò che poteva fare era pagare per questo triste atto. Mike beve molto. Un bicchierino dopo l'altro. L'alcol fece il suo lavoro, portando un sollievo temporaneo. A poco a poco, tutti si dispersero. L'uomo rimase nella sala banchetti, affittata per la veglia funebre. Tutto solo, a parte un paio di conoscenti, che in generale non si curavano di lui. William arrivò da qualche parte e aiutò Mike ad alzarsi dal tavolo. Mike, andiamo a casa. Ti accompagno io. Improvvisamente, spinse il braccio pesante di Mike sulla sua spalla. Non voglio niente, sussurrò Mike. Lasciami in pace. Voglio un altro drink. Hai bevuto abbastanza. Andiamo. William glielo disse con calma. Hai portato Alice lì da sola. Non è sola. Sai bene cosa intendo. Ha bisogno di suo padre in questo momento. Non di tutte le tate e le governanti. William portò Mike in brazio fino all'auto e lo caricò sul sedile posteriore. Il viaggio verso la casa di campagna della famiglia era lungo. Ed era l'ora di punta. Mercoledì sera. William arrivò all'enorme villa dietro un'alta recinzione verso le 10. Chiamò il servizio di sicurezza. Buonasera, William. Un omone in uniforme nera lo accolse. Alex lo salutò e William si diresse verso la porta posteriore della sua auto. Prendete altri ragazzi. Ecco a voi. Ho portato il vostro capo. Mettetelo a letto. Dite a Mary di preparare del tè forte. Faglielo bere se si sveglia e diventa violento. Lo faremo, disse la guardia. Che cosa faremmo senza di te? Fa male vedere il capo in uno stato così disastrato. Senza Natalie, questo posto si sgretolerà. Non succederà, rispose William con sicurezza. Assicuratevi solo che non faccia nulla di stupido e nascondete gli alcolici a casa. Ha bisogno di passare più tempo con sua figlia. L'uomo consegnò il suo amico alle guardie, che lo portarono all'ingresso. Dopo essere rimasto fuori dal cancello per qualche minuto, William salì in macchina e tornò a casa. Mike, Mike. Mary si lamentò mentre si toglieva la giacca del padrone. Perché ti sei ubriacato così tanto? Non è il modo di bere alcolici per affogare i dispiaceri. Avresti dovuto pensare ad Alice. Mmm, borbottò Mike. Non sono ubriaco. No, non lo sei. Non riesci nemmeno a spogliarti. Ti preparo del tè e a stomaco vuoto. Che vergogna. Torno subito. È meglio che mi versi una vodka, Mary. Qualcosa di diverso. Sono già piena. Solo un tè forte e subito a letto. Hai bisogno di dormire. Ho già messo a letto Alice. Povera ragazza. Grazie a Dio non ha dovuto andare al funerale. Non ce l'avrebbe fatta. Mary lasciò Mike da solo. Era sdraiato sul divano e fissava il soffitto con aria assente. A cosa diavolo serviva quel cristallo? Un pensiero balenò nella mente dell'uomo alla vista dell'enorme lampadario che dipingeva il salotto. È solo una finzione qualche frammento della felicità di un tempo. Natalie mi avrebbe detto tutto. Che ero ubriaco e che stavo facendo una pessima figura davanti alla servitù. È tutto finito. Nessuno dirà nulla. Mary si lamenterà soltanto. Che mi importa di quello che pensa? Li odio tutti. Vivono per conto loro. Prendono lo stipendio e fingono di preoccuparsi del mio dolore. Senza Natalie niente ha più senso. Dieci anni. Dieci anni in cui lei era tutto per me. E poi Bang, un piccolo pazzo che non sapeva controllare la macchina, l'ha portata via. L'ha portata via e basta. C'è giustizia nella vita? Era sabato. Dovevano festeggiare il loro anniversario di matrimonio. Natalie, disse Mike preoccupato al telefono. Senti, sono un po' in ritardo. Quindi perché non festeggiamo a casa e ordiniamo tutto quello che ci serve? Beh, Mike, rispose Natalie, fintamente offesa. Sono così bella stasera. Vorrei brillare in società, così tutti sarebbero invidiosi di te. Inoltre, non è un caso che abbiamo scelto il ristorante dove abbiamo avuto il nostro primo appuntamento. Fai con calma, guiderò io. Chiederò ad Andrew di accompagnarmi. Andrew è già andato a casa. Mike ha resistito. Oggi è anche la sua festa. Lasciamolo festeggiare. in pace. Mostra un po' di umanità. Stamattina gli ho detto che poteva essere libero dopo le quattro. Va bene, la moglie ha rinunciato. Ma nulla mi impedisce di guidare io stesso. Passerei dal suo ufficio e poi potremmo andare insieme al ristorante. A che ora stacchi? Sei così insistente. Mike ha riso. Vieni alle sette. Credo che per allora avrò finito. A dopo, amore mio. Natalie cinguettò e spense. Mike non sapeva di aver sentito la voce di sua moglie per l'ultima volta. Era già all'inizio dell'ottava. Mike chiamò sua moglie. Ma all'altro capo del filo rispose la voce meccanica della segreteria telefonica. Una vaga inquietudine si insinuò nel petto dell'uomo. Poi ricevette una chiamata da un numero sconosciuto. Mike. La voce dell'uomo era in qualche modo distaccata e metallica. Sto ascoltando. Rispose Mike ansioso. Natalie, chi sei? Sentiva freddo dentro di sé. Il tono stesso della voce del chiamante gli diceva che qualcosa non andava. Mike lo sentiva con tutto il suo essere. È mia moglie. Rispose con voce tremante. Che cosa è successo? C'è stato un incidente in autostrada verso le sette e mezza di oggi. Temo che sua moglie sia morta. È morta nell'ambulanza durante il tragitto verso l'ospedale. Sono l'agente investigativo capo Felix. Mi dispiace per la sua perdita. Lei è confuso. Mormorò Mike. La voce gli tremava. L'uomo cercò di mantenere la calma. Sicuramente quest'uomo gli sta solo giocando uno scherzo crudele. Temo che sia così. Ora dovrà andare all'obitorio per identificare il corpo. Se questo è uno scherzo se ne pentirà. Mike gridò al telefono. Non ho intenzione di lasciar perdere. Mike, il poliziotto rispose con calma. Niente scherzi. Sono un funzionario. Capisco quanto sia difficile per i parenti del defunto sentire una notizia del genere. Venga per favore discuteremo di tutto sul posto. Mike scese dall'ufficio all'auto con le gambe traballanti, cercando di trovare l'indirizzo esatto dell'obitorio nel suo telefono. Era lì in 15 minuti. All'ingresso lo attendeva già Felix. Era già un giovane in uniforme. Salve di nuovo, strinse la mano a Mike. Vieni con me. Ti avverto. Non è uno spettacolo piacevole, ma non puoi fare a meno di questa procedura. Quando il lenzuolo che copriva il corpo fu tirato indietro, Mike quasi gridò, senza alcun dubbio. Natalie era distesa di fronte a lui, il volto insanguinato e contorto dal dolore. Le ciocche di capelli fuse e secche le incorniciavano la fronte in modo inquietante. Non l'avrebbe nemmeno riconosciuta se non fosse stato per gli orecchini che brillavano nei lobi delle orecchie. Mike li aveva regalati a sua moglie molto tempo prima, un gioiello realizzato su suo disegno. Il suo cuore batteva disperatamente e poi sembrò bloccarsi. L'uomo mosse le labbra senza rumore e le lacrime gli sgorgarono dagli occhi. È lei, si impose. Ne è sicuro? chiese l'investigatore. Non c'è alcun dubbio. Mi dica cosa è successo. Natalie uscì di casa di buon umore. Raramente guidava, preferendo viaggiare sul sedile del passeggero. Era un'ottima guidatrice, ma Mike insisteva che una donna non doveva stare al volante. Lei non discuteva mai. Ma questa volta era così eccitata per l'imminente vacanza, che insistette per guidare lei stessa. Quando Natalie uscì di casa, la coppia di guardie di sicurezza all'ingresso era tutta vestita a festa, radiosa e felice. Natalie era molto contenta. Sapeva che le loro parole erano sincere. Stavano semplicemente esprimendo l'apprezzamento dei lavoratori per la padrona. Il capoturno le sorrise ampiamente e le augurò una buona serata. Alice, girando vicino alla madre, scherzò allegramente e chiese di essere portata con sé. Ma la madre le spiegò che questa serata era solo per lei e suo padre e che domani avrebbero festeggiato insieme. La ragazza era un po' turbata, ma capì cosa stava succedendo. Salutò Natalie con un bacio ed entrò in casa. Natalie salì in macchina, mise un po' di musica e guidò lentamente fuori dal villaggio e sull'autostrada per il centro città, che durava circa mezz'ora. La strada era quasi vuota. Natalie cantò al ritmo della canzone che usciva dagli altoparlanti e guardò alla serata ce la tendeva. Si stava facendo buio. Il flusso di auto in arrivo salutò la donna con Faria Micanti. Tutto intorno a lei sembrava ghioire con lei. Immersa nei suoi pensieri, Natalie non notò nemmeno come un piccolo SUV balzò fuori dalla corsia di sinistra della strada, dritto verso di lei. La donna se ne accorse troppo tardi. Non c'era modo di evitare la collisione. L'auto fu spinta bruscamente. La donna cercò senza successo di girare il volante. L'auto andò in testa coda e fu scaraventata sul lato della strada, dove un pilastro di cemento stava già correndo verso di lei. L'auto di Natalie colpì un pilastro solido appena fuori dalla portiera del conducente. E poi c'è stato il silenzio. I soccorritori sono arrivati sul luogo dell'incidente e hanno estratto la donna intrappolata all'interno. Dovettero persino tagliare la portiera, che era stata maciullata e incastrata. Ma era troppo tardi. Natalie aveva perso troppo sangue. Morì nell'ambulanza, senza mai riprendere conoscenza. Il ragazzo che aveva causato l'incidente era seduto sul marciapiede con la testa a terra. Aveva da poco preso la patente e a un certo punto non ha retto al controllo e a tutta velocità si è lanciato sulla strada opposta. Hanno portato anche lui in ambulanza, anche se non c'erano ferite visibili su di lui. Dove si trova? Mike chiese freddamente al poliziotto quando ebbe finito il suo racconto. Lo hanno portato dall'ospedale al centro di detenzione. Ora stanno facendo i test, ma il ragazzo mi sembra completamente sobrio. Non posso ancora dirvi cosa è successo esattamente. Secondo lui, il volante si è rifiutato di ascoltare qualcosa con i freni. È sotto shock, è molto confuso. Vi darò la possibilità di parlare quando tornerà. In questo momento staresti guidando verso casa. C'è qualcuno vicino a te? Non puoi stare da solo in questo momento. Posso accompagnarla io? No, grazie. Mike strinse i denti. Guiderò da solo. È pericoloso guidare così. Ma dipende da te. Felix alzò le spalle. Ti chiamo domani o dopo domani. Mentre tu informi i tuoi parenti, io me ne occupo personalmente. Mike rispose distrattamente. L'unica cosa che lo preoccupava ora era come informare sua figlia della morte di Natalie. Papà, sei lì? Alice sbirciò nella camera da letto buia. Le spesse tende appese alle finestre non lasciavano entrare quasi nessuna luce solare. Mike si muoveva pesantemente e borbottava qualcosa di incomprensibile. Alice entrò silenziosamente, chiudendosi la porta alle spalle. La ragazza rimase un attimo esitante. Poi si diresse lentamente verso il letto. Si sedette accanto ad esso e iniziò ad accarezzare il braccio del padre. Gattina, sei tu? Chiese Mike con voce roca. Sì, papà, singhiozzò la ragazza. Mary mi ha detto di non venire. Ma io voglio davvero stare con te, solo per un minuto. Vieni qui, piccola, suggerì Mike. Alice obbediente saltò sul letto e si strinse al padre. Lui la riabbracciò e sentì le lacrime sgorgare dai suoi occhi. Papà, non piangere, disse Alice a bassa voce. La mamma diceva sempre che gli uomini non piangono. Va tutto bene ora, Mike le accarezzò la testa. Ti prometto che è l'ultima volta. Come ti senti? Meglio. Ma mi manca ancora molto la mia mamma. Anche a me, tesoro, anche a me. Va tutto bene io e te. Saremo felici comunque. La mamma sarà felice per noi. Non vogliamo turbarla. Come farà a saperlo? Lei è nel tuo cuore per sempre. E se tu sei triste, lei lo sentirà. Se tu sei felice, lei sarà felice con te. Allora non sarò mai triste, papà. Farò del mio meglio. Voglio che anche la mamma sia sempre felice. Va bene, bambina mia. Rimaniamo sdraiati ancora un po' e poi andiamo a fare colazione. Altrimenti Mary si arrabbierà. Circa un'ora dopo Mike e Alice scesero in sala da pranzo, dove la colazione li attendeva sul tavolo. Mary vide i volti rigati di lacrime di padre e figlia e si limitò a schizzare le mani. Oh, poveri disgraziati. Va tutto bene, passerà. Sedetevi a tavola. Si sta raffreddando. Mary, non preoccuparti. Mike la interruppe. Va tutto bene. Mangeremo la roba fredda. Vero, Alice. Io prendo solo un po' di latte e un panino. Annui la ragazza, che diede un bel morso al delizioso muffin. Mike. La governante si rivolse all'uomo. Hanno chiamato dall'ufficio. Non riescono a contattarti. Sì, ho spento il telefono masticando, rispose Mike. Cosa vogliono? Sono arrivati degli stranieri. Può richiamare? Andrew, ovviamente, farà tutto da solo, ma a quanto pare non possono fare a meno di te. Va bene. Papà? Alice è intervenuta. Oggi non sono andato a scuola. Non è spaventoso? No, gattina, va bene. Presto sarai a casa per le vacanze. E dopo le vacanze ricomincerai a frequentare le lezioni. Noi due abbiamo bisogno di riprenderci prima di andare a scuola. In qualsiasi altra situazione la ragazza sarebbe stata molto felice della prospettiva di saltare le lezioni in palestra. Ma ora stava pigramente raccogliendo con un cucchiaio in un bicchiere di marmellata di cristallo e la sua espressione era estremamente triste. Cosa facciamo oggi? Le chiese il padre. Non lo so. Alice alzò le spalle. Ho mal di testa. Mi sdraierò per un po'. Ok, e poi, quando ti sarai riposata, andremo a fare una passeggiata nel bosco. Che ne dici? Sì, la ragazza annui. C'era qualcosa nel suo comportamento che non piaceva a Mike. Alice si sedette pallida. Prima di colazione stava bene. Mary portò la ragazza nella sua stanza. Mike rimase a lungo da solo, con il telefono in mano. Non aveva voglia di chiamare l'ufficio. Sono stufo di tutto, pensò. Che senso ha fare soldi adesso? Quello che ha è più che sufficiente per una vecchiaia senza problemi. Non solo miei, ma anche dei futuri figli di Alice. Gli affari vanno avanti senza problemi da molto tempo, senza il mio coinvolgimento. Forse dovrei lasciar perdere. diventare un'eremita, andarmene da qualche parte. Mettere Alice in una pensione privata in Svizzera. Si prenderanno cura di lei meglio di quanto possa fare io. Natalie era motivata. Aveva sempre bisogno di crescere. Nei dieci anni in cui abbiamo vissuto insieme, la sua energia è stata l'unica vera fonte del mio progresso. Se non fosse stato per lei, non avrei mai corso il rischio di chiedere un prestito. Quando non c'era più energia, seguiva il fallimento. E le difficoltà si presentavano a ogni passo. Ero pronto ad arrendermi, ma appena lei mi sorrideva, mi abbracciava, era impaziente di raggiungere il suo obiettivo. Non le interessava il denaro. Natalie continuava a dirmi che avevo talento e che era sciocco seppellirlo sottoterra. È stata lei a convincermi ad aprire il mio primo caffè. I soldi non erano molti all'epoca, ma dovevano essere investiti con successo. L'idea di Natalie era il formato insolito del locale. Non è mai stata coinvolta direttamente nell'attività. Io organizzavo tutti i processi. È questo il mio talento. E poi, quando i profitti sono diventati tangibili e l'agente entrava letteralmente dalle porte, abbiamo dovuto pensare di espandersi. E ora, in dieci anni, un caffè si è trasformato in un'intera catena. Si sono aggiunti saloni di bellezza. Hotel è un'agenzia di organizzazione di eventi. E ora tutto questo, oltre ai grattacapi, porta un reddito enorme, anche al netto delle tasse. Ma non ho più l'energia per fare nulla. Se non fosse per Alice, rinuncerei subito a tutto. Questa casa, per esempio. Cosa ci sta a fare una casa come questa per noi due? Sì, i domestici sono più felici di vivere qui di me. Quando io e Nathalie l'abbiamo costruita, sognavamo che lei avrebbe avuto molti figli, e poi loro avrebbero avuto delle famiglie, e noi avremmo vissuto tutti insieme, felici e amichevoli. È una sciocchezza. Ma non sembrava una sciocchezza quando l'ha detto. Al contrario, ero così entusiasta di mettere su questo posto che è buffo anche adesso. Chi poteva immaginare che Alice sarebbe stata la nostra prima e ultima figlia? E ancora di più, chi sapeva che Nathalie avrebbe lasciato il mondo così presto? E ora chi ha bisogno di questo giardino di cui Nathalie era così fanatica? Non le permetteva nemmeno di assumere un giardiniere. Faceva tutto da sola. No, non posso più pensarci. Mike salì al piano di sopra e sbirciò silenziosamente nella stanza della figlia. La bambina dormiva, non voleva svegliarla. Andò in camera sua, si cambiò con una tuta da ginnastica, indossò una giacca e tirò fuori dall'armadio le scarpe da ginnastica, cercando di non farsi vedere da Mary. Mike uscì in cortile e si diresse nel bosco attraverso il cancello posteriore. Da un lato la casa confinava con una pineta di straordinaria bellezza. Erano stati proprio i pini relitti il motivo dell'acquisto del lotto in questa comunità. Alla piccola Alice, che all'epoca aveva appena due anni, era stata diagnosticata l'asma. Nathalie si rese subito conto che l'aria dei pini aveva proprietà curativa. Anche se all'epoca il prezzo della proprietà sembrava cosmico, Mike non ha badato a spese e da allora non se ne è mai pentito. Per tutto il tempo in cui ha vissuto qui, la ragazza non ha quasi mai avuto un attacco. Lui stesso si è interessato attivamente al jogging, correndo tra i pini che svettano verso il cielo su sentieri ricoperti di aghi di pino. Era piacevole e utile. E la solitudine che la foresta offriva, nonostante la vicinanza agli edifici residenziali, era il rimedio magico di cui il corpo stressato di Mike aveva disperatamente bisogno. Era la metà di aprile. L'inverno non aveva nevicato molto, quindi la neve si era quasi tutta sciolta nella foresta. Rimaneva solo in pianura, dove c'era poca luce solare. Una foschia verdastra era già visibile nel fogliame rado. Mike inspirò a pieni polmoni. L'aria gli attraversò i polmoni in un'onda rovente. Gli odori di aghi di pino, di resina, di terra bagnata e di qualcos'altro di inafferrabile che accompagna sempre l'arrivo della primavera, gli fecero provare nostalgia. Dopo essersi fermato per un po' ai margini della foresta e aver ascoltato i trilli degli uccelli, Mike si mise a correre. Non si era allenato per molto tempo. Non ne aveva avuto il tempo. E poi l'inverno. Le sue scarpe da ginnastica affondavano nel terreno morbido e rosso. Ma correre non faceva male. L'aria era ancora fresca ma Mike non se ne accorse. Correva senza fermarsi. All'inizio soffriva di fiato corto causato dall'eccessivo consumo di alcol di ieri sera. Ma presto l'uomo riuscì a normalizzare il ritmo della respirazione e a trovare il suo passo. Mike non vedeva nulla intorno a sé. Si limitava ad avanzare, con i piedi che lo guidavano lungo il sentiero ben battuto. Sembrava cadere in una sorta di trance, sostenuto dal suo respiro tranquillo e dal suono degli aghi di pino usati dai suoi istruttori. All'improvviso, uno strano suono fece uscire Mike dal suo torpore. Rallentò leggermente il passo e si mise in ascolto. Un uccello o qualcosa del genere? Pensò l'uomo. Sembrava il pianto di un bambino. Ma sono già scappato lontano dal villaggio. Non credo che i bambini vengano qui. Ma il pianto si ripeteva. Mike si fermò bruscamente. Mise le mani sulle ginocchia e respirò pesantemente. Dopo aver ripreso fiato, l'uomo gridò. C'è qualcuno? Non ci fu risposta. L'orecchio di Mike sentì il rumore di ramoscelli. Il primo pensiero nella testa di Mike fu. Orso. Ma si castigò subito. Che orsi possono esserci qui? Qui gli animali più grandi sono solo gli scoiattoli. Bisogna essere fortunati per vederne uno. Mike rimase fermo per un po', ma non sentì altri pianti. Spero che nessuno si sia perso. Perché ho sentito dire che è facile che i bambini si perdano nel bosco e se non li si aiuta in tempo, è finita. Va bene. Mi ricorderò il luogo. Non si sa mai. Non si sa mai. Mike non corse oltre. Era ora di tornare a casa. Tornando, l'uomo si rese conto di aver percorso almeno dieci chilometri in una sola direzione, senza accorgersene. Il cielo cominciò a scurirsi. Il sole era già tramontato e la foresta stava diventando insolitamente inquietante. Mike percorse il resto della strada a passo spedito. I suoi polmoni non accettavano di correre. Inoltre, la pugnalata al fianco era insopportabile. L'uomo cade letteralmente attraverso il canselo del cortile e si sedette immediatamente nel gazebo. La sua mente era completamente vuota. Mike rimase seduto a guardare il cielo. La prima stella stava già comparendo all'orizzonte. improvvisamente sentì dei rumori provenire dalla casa. Alex gridò alla guardia, ma non ottenne risposta. La cabina di guardia era piuttosto lontana dal cortile, quindi non era una sorpresa che nessuno rispondesse. Una cosa che le guardie dovevano tenere d'occhio era il nome. Non si può sapere cosa succederà qui. Dovrebbero mettere un'altra stazione qui, in modo da non dover giocare troppo le loro carte. Mike si alzò e si diresse a passo svelto verso la casa. Quando Mary lo vide, gridò Mike. Dove stai andando? Alice non sta bene. Cosa? L'uomo impallidì. Cosa c'è che non va? Dov'è? Stava dormendo al piano di sopra. Ho chiamato Jack. Sta arrivando. Una crisi epilettica? Sì, sembra di sì. Le ho spruzzato l'inalatore, ma sta ancora soffocando. Ho chiamato un'ambulanza, ovviamente. Ma credo che Andrew sarà qui tra un paio di minuti. Mike si precipitò su per le scale fino alla stanza della figlia. Accanto a lei sedeva Pam, la cameriera, che amava molto la bambina e spesso giocava con lei quando non era in classe. Alice si sdraiò con la testa in grembo alla ragazza e ansimò per prendere aria. Oh mio Dio! esclamò Mike e si sedette a terra accanto alla figlia. Pam! Falla sedere subito. Non può stare sdraiata. Preparo il compressore. Si precipitò verso l'armadietto che conteneva tutti gli inalatori con compressore. Era usato raramente, ma Mike ricordava come lo usava Natalie. Versò delle gocce nello scomparto dei medicinali dalla bottiglia accanto e vi versò della soluzione fisiologica. Immediatamente collegò l'apparecchio alla presa di corrente e avvicinò la maschera di plastica al viso di Alice. Il compressore ronzò monotonamente e il vapore iniziò a fuoriuscire dalla maschera. Forza tesoro respira, disse guardando la figlia con preoccupazione. Ti ricordi come si respira correttamente? Alice tenendo la maschera sulla bocca annuì al padre e respirò profondamente per circa un minuto. Mike rimase seduto cercando di non muoversi. Poi si sentirono dei passi fuori dalla porta. Era Jack. Buonasera Mike. Il dottore mi salutò. Grazie a Dio Jack. Ero così spaventato. Le ho dato questa medicina. Non c'è nient'altro. Forse c'è, ma dobbiamo cercarlo. Di solito Natalie. Mike calmati. Hai fatto la cosa giusta. Diamo un'occhiata. Ho portato tutto quello che mi serve. Va bene ragazza. Lasciaci in pace per ora. Il vecchio si rivolse a Pam. La cameriera uscì obbediente. Mike, puoi uscire anche tu. Ti chiamo io. No, io resto. Mike scosse la testa. Jack lo guardò, ma non disse nulla. Tirò fuori uno stetoscopio. Ascoltò Alice. Le misurò la pressione e le chiese di soffiare in un tubo. Mike non sapeva a cosa servisse. Alice, ti senti meglio? Chiese il vecchio alla ragazza. Lei annui e si rimise la maschera. Avete già chiamato un'ambulanza? È un attacco piuttosto grave, ma credo che possiamo evitare il ricovero in ospedale. Non sono sicuro della causa, a dire il vero. Potrebbe essere stagionale, però. Ma per quanto ne so, Alice non ha problemi con i pollini o cose del genere. E la sua asma non è allergica. Ma durante il giorno stava bene. Nel pomeriggio, però, Alice si è lamentata di non sentirsi bene, ed è andata a sdraiarsi. Una crisi epilettica può insorgere all'improvviso se c'è un catalizzatore. Non dimentichiamo che la ragazza era sotto shock. La tensione nervosa potrebbe aver causato l'attacco di panico. Di conseguenza, non preoccupatevi. È tutto abbastanza normale. La cosa più importante è prendere subito una cura farmacologica. Vi scrivo ora per dirvi cosa prendere in ospedale. tanto vi avrebbero prescritto la stessa cosa. Dopo che Jack se ne andò, arrivò l'ambulanza. I medici videro la ragazza e si offrirono di portarla in ospedale. Ma Mike si rifiutò. Disse al paramedico che il medico di famiglia li aveva già visitati e aveva prescritto i farmaci necessari. Dipende da voi, disse il paramedico scrollando le spalle. Ma comunque, se l'attacco si ripete, non esiti. Portate la ragazza in ospedale. Non è uno scherzo. Lo sai. Mike mandò una delle guardie in farmacia con una risetta. Tornò con una borsa. Mike rimase con sua figlia tutta la notte, ma lei sembrava stare meglio. Alice cominciò a svanire davanti ai suoi occhi. Le crisi epilettiche erano diminuite, ma la salute generale della bambina non faceva che peggiorare. Jack insistette affinché Mike portasse la bambina da un pediatra di sua conoscenza. Il medico esaminò la bambina, ma la trovò fisicamente completamente sana. Come può essere sana? Mike era indignato. Aveva perso così tanto peso in 15 giorni. Non aveva alcun appetito. Temo che il problema sia puramente psicologico. Il medico scrollò le spalle. Per quanto ne so, Alice aveva da poco perso la madre. È una situazione difficile da accettare per un adulto. Una bambina di 7 anni. E l'asma ha avuto il suo peso sul suo corpo. Ora farò alcuni esami. Poi potremo esaminare i dettagli di ciò che sta accadendo. Ma se fossi in lei, la porterei da un consulente. Ce n'è uno molto bravo nella nostra clinica. Posso scriverle una lettera di referenza. Se non si interviene subito, il prossimo esaurimento nervoso potrebbe provocare un attacco asmatico molto più forte dell'ultima volta. E in generale, il bambino ha bisogno di un intervento immediato, in modo che non influisca negativamente sul resto della sua vita. Ok, Mike annui. Purché sia d'aiuto. Non posso vederla soffrire. Come il pediatra si aspettava, gli esami erano normali. Alice era fisicamente sana. Mike portò subito la figlia dallo psicologo. Non sapeva cosa fosse successo nello studio. Una donna severa con gli occhiali tondi, di nome Molly, gli chiese di rimanere nel corridoio per il momento. Per mezz'ora Mike rimase seduto su uno scomodo divano a studiare i quadri alle pareti. I disegni raffiguravano scene di alcuni cartoni animati per bambini che l'uomo non aveva mai sentito nominare. Alice non guardava i cartoni animati. Natalie l'aveva fatta interessare ai libri, strane cricciure rotonde dai colori selvaggi, che assomigliavano lontanamente ad animali, facevano qualcosa di incomprensibile. Sì, mormorò Mike. Strani cartoni animati al giorno d'oggi. Non è facile essere un bambino moderno di questi tempi. In quel momento la porta dell'ufficio si aprì e la psicologa invitò Mike a entrare. Alice era seduta a un tavolino e scriveva appassionatamente. Mike siediti, disse Molly a bassa voce. Alice compilerà alcuni moduli per i test e io ti lascerò andare. Ma prima dobbiamo parlare. Sì, Mike Annui. Dimmi chiaramente cosa c'è che non va in Alice. Farò tutto quello che mi dirà. Non voglio fare diagnosi premature. È possibile che Alice sia solo in stato di shock psicologico e che questo passi col tempo. Ma personalmente sospetto un disturbo da stress post-traumatico. Che cos'è? Mike era teso. È uno stato mentale che si verifica dopo un evento tragico. Alice ha perso la madre. Ora si sente impotente, persa. I ricordi continuano a riaffiorare nella sua testa, costringendola a rivivere i terribili eventi. Da qui l'apatia e la perdita di appetito. Se non viene controllata questa situazione potrebbe avere conseguenze disastrose per lo stato psico emotivo del bambino. Aspetta. Ma il fatto è che Alice era sorprendentemente calma riguardo alla morte di mia moglie. È difficile definirla calma, ma io e lei ne abbiamo parlato molte volte. Alice è una ragazza molto sviluppata, sensibile. Mi ha sempre spaventato il fatto che abbia una prospettiva adulta su molte cose. Vedete la malattia di cui vi sto parlando non si manifesta immediatamente. Di solito settimane o addirittura anni dopo un evento tragico. All'inizio è stato uno shock. Alice non si rendeva pienamente conto di ciò che era successo. Un periodo latente di relativa calma è normale. Dal punto di vista fisico la malattia non è pericolosa. Anche se nel caso di sua figlia non direi proprio. All'asma e i disturbi d'ansia possono causare attacchi o esacerbazioni. Ma la cosa peggiore è la deformazione della personalità. Alice può avere dei flashback che le fanno rivivere continuamente ciò che è successo. Oltre all'ansia e alla tensione interiore possono manifestarsi segni come stanchezza cronica, vuoti di memoria, perdita di attenzione, problemi cardiaci e così via. Non vi dirò tutto questo adesso. È troppo presto per fare una diagnosi. È solo un'ipotesi. Ma vi sto preparando al peggio. Se non si fa nulla in tempo, Alice finirà per diventare una persona anormale e malata di mente. È questo che sta dicendo? Mike interruppe nervosamente il medico. È un po' forte. Non è affatto così. Ma i problemi emotivi sono alla base di problemi molto più gravi. Intende dire come malattie endogenee. Alice ha un'età in cui è tanto facile curarla quanto lasciarla andare. Ok. Allora cosa facciamo? Beh, questo non è proprio il lavoro di uno psicologo, ma di un terapeuta. Se i test confermeranno la mia intuizione, indirizzerò Alice da uno psicologo. Non è un po' troppo indirizzare una bambina a uno psichiatra. Penso che lei stia solo cercando di imporci servizi non necessari per ottenere più soldi. Non voglio che mio figlio prenda delle pillole. Chi glielo ha detto? Non tutti i disturbi mentali possono essere trattati con le pillole. Ci sono delle alternative. Alice. Mike si voltò verso la figlia. Usciamo di qui. Papà, ma io non ho ancora finito. Richiamò la ragazza dai giornali. Mike. Non toglierti questo peso dalle mani. Pensa alla bambina. Quello che ti sto offrendo è ragionevole e necessario. Mia figlia è normale. Posso farcela da solo. Mike. Lo psicologo gridò all'uomo che stava uscendo dall'ufficio con in braccio la bambina. Ma era troppo tardi. L'uomo se n'era andato. Mike disse alla sua famiglia di non far entrare i medici in casa per nessun motivo. Era deciso a risolvere il problema di Alice da solo, ma non stava funzionando bene. Alice annunciò allegramente il suo arrivo, sbirciando nella stanza della figlia. Guarda cosa ti ho portato. Nelle mani dell'uomo c'era una scatola. Alice alzò languidamente la testa, staccandosi dal libro. Che cos'è? Chiese stancamente. Aprilo e vedrai. Il padre sorrise. Non voglio. La ragazza si voltò verso il padre. Quindi non hai ancora visto cosa c'è dentro e già ti rifiuti. Papà, ti prego, lasciami in pace, voglio dormire. Figlia. Ma è ancora presto. Scendi con me e siediti. È passato molto tempo dall'ultima volta che ci siamo seduti insieme in salotto. Magari guardiamo un po' di pattini a rotelle. A proposito, nella scatola ci sono dei pattini a rotelle. Non pattini video, pattini veri. Io vado di sotto e tu mi raggiungi. Va bene. La ragazza borbottò. Ma non riuscì mai a scendere. Mary le portò la cena. Ma Alice non la toccò. Giorno dopo giorno Mike guardò la figlia tormentata dal suo grande dolore. Mary si rivolse alla governante mentre entrava in cucina. Dimmi. Sì, Mike, cosa c'è? Chiese la donna, asciugandosi le mani bagnate sul grembiule dopo aver lavato i piatti. Non so cosa fare. Non manghia nulla. Non risponde ai regali. Nemmeno alle mie parole. Non si fa sentire. Si hai scritto all'ippodromo. Lì puoi venire. Accarezzare i cavalli. Cavalcare e l'ippoterapia, si chiama così. Si rifiuta assolutamente di uscire di casa. Non so, forse dovremmo prenderle un cavallo qui. Non essere ridicolo, Mike. Non puoi prendere un gattino per via delle allergie e non puoi prendere un cavallo. Diamo tempo alla ragazza. È passato un mese da quando Natalie è morta. È il primo maggio. Dovreste fare un picnic. Il tempo è così bello che uscirà alla luce del sole e l'odore del barbecue la farà uscire dalla sua tana. Non voglio trascinarla da uno psichiatra. Le prescriveranno una montagna di pillole e forse ci libereremo di un problema, ma ne avremo mille altri. So come funzionano quelle pillole. Le ho dovute prendere anch'io quando ero giovane. E non potete darle a me, un uomo adulto, un bambino. E non so se fidarmi o meno dei medici. Ho l'impressione che stiano solo cercando di spillarti altri soldi e di curarti fino alla morte. Cosa dice Jack? Jack? Dice che non è la sua area di competenza. Dice di ascoltare un consulente, almeno per avere i risultati degli esami. Io non voglio farlo. Non credo che Alice abbia questi problemi. Mike? Mi dispiace, ma credo che tu sia un po' sciocco. Sono una donna anziana. Non conosco tutti questi nuovi psichiatri e psicologi. C'è un motivo per cui funzionano. Vada a trovare Alice. Nessuno le farà prendere delle pillole. E se non fosse così grave. Almeno vai a trovare la donna che le ha parlato da sola, senza la figlia. Dopotutto, hanno dei diplomi. C'è un motivo per cui ora lavorano in cliniche come questa. Mary, come puoi essere così ingenua? È proprio per questo che non mi fido di loro. Comprano i loro diplomi e poi danno ai loro figli malattie inesistenti. E non voglio dover trascinare Alice in giro per questi uffici. È solo un ulteriore stress. Non so. La donna scosse la testa. Da un lato la capisco, ma dall'altro... La ragazza ha ovviamente bisogno di aiuto. E voi non lavorate con lei in alcun modo. Non la portate fuori almeno a parlare. Non la portate nel bosco a fare una passeggiata o altro. È rinchiusa. Non vuole nemmeno parlare con me. Non posso trascinarla fuori con la forza. Alice è sempre stata educata ad avere una scelta. Ora devo violare la mia stessa educazione costringendola. Trovatele una tata, come si dice. Una governante che le insegni lentamente. Sta già finendo un anno di scuola e in autunno entrerà di nuovo in prima elementare. Ok, ci penserò. Mike si accigliò. Cercherò di farla parlare. Le ho comprato dei pattini a rotelle e non ha voluto nemmeno prendere la scatola per aprirla e vedere cosa c'era dentro. Mike tornò da sua figlia. Lei non stava più leggendo un libro, ma stava seduta in silenzio a guardare fuori dalla finestra. La scatola a rotelle rimase sigillata in quel modo. «Gattina, posso entrare?» chiese il padre. La bambina non rispose. Mike si avvicinò a lei e le mise silenziosamente un braccio intorno alle spalle, cercando di capire cosa stesse guardando la ragazza. Fuori dalla finestra il giardino era verde, un enorme melo che era cresciuto qui prima della costruzione della casa. Era coperto di fiori bianchi. Lo sguardo di Alice era fisso su di esso. «È bellissimo, vero?» disse Mike. «Lo è», disse dolcemente la ragazza. «Alla mamma piaceva tanto». Non disse altro. Passò un mese. Mike si stava riprendendo e passava molto tempo al lavoro. Le trattative commerciali e il controllo delle sue attività allontanarono gradualmente dalla sua mente i pensieri più pesanti. La sera tornò a casa e andò subito da Alice. La ragazza aveva smesso di parlare. Non importava se Mike o altri membri della famiglia cercavano di farla dialogare. Era inutile. La bambina era silenziosa e non voleva uscire dalla stanza. Mike assunse una governante psicologa di nome Lily. Era una donna di mezza età, cordiale e con molta esperienza. Passò quasi tutto il tempo nella stanza di Alice, ma non riuscì mai a farla parlare, anche se grazie ai suoi sforzi la bambina cominciò almeno a mangiare un po'. «Cosa posso dire, Mike?» disse Lily una sera quando scese le scale. «Non sono affari miei, ma di questo passo non andremo molto lontano. Gli effetti del trauma psicologico sono troppo gravi e mi vergogno ad ammetterlo. Sono impotente qui. Sta dicendo anche che dovrei portare mia figlia da uno psichiatra? Non posso dirle cosa fare. Dopotutto, Alice è sua figlia. Posso solo sostenerla, ma una ragazza ha bisogno di sua madre. In questo momento vive in un mondo di illusioni, di ricordi. Si rende conto in continuazione che Natalie non verrà mai più da lei. È spaventoso, soprattutto a quell'età. Naturalmente studiamo molto. Disegnare aiuta molto. Alice non parla, ma lo fanno i suoi disegni. Guardate qui». Lily passò a Mike una piccola pila di fogli colorati. «Troppo nero», sospirò la donna. «Cosa sono quelle macchie?» chiese Mike. «Sembrano buchi neri in ogni immagine. Se si analizzano le immagini, si può supporre che dietro ci sia l'immagine di Natalie. Quella sei tu. È Alice in persona. La ragazza disegna in nero tutte le persone tranne Mary. Non in persona la madre, ma solo un'enorme macchia nera al centro di ogni immagine. L'unica cosa disegnata con precisione e con colori chiari è un albero di mele, che a quanto ho capito cresce nel vostro giardino. Sì, mia moglie era molto affezionata a questo albero. Si sedevano sempre sotto di esso. Questo albero è un'immagine leghera di sua madre, che Alite proietta nel quadro, i suoi ricordi e le sue associazioni. E la macchia nera è una visione della tragedia. Il fatto stesso che non ci sia più una donna in questo mondo, e questa macchia attira gradualmente la coscienza della bambina verso di sé. Guarda. Più tardi è stato fatto il disegno. Più nero c'è in esso. Che cosa facciamo? Chiese confusamente Mike. È ancora difficile dirlo. Di certo non sono favorevole all'assunzione di pillole da parte di un bambino. È l'ultima spiaggia. Non vale la pena di paralizzare ulteriormente la sua psiche, ma la terapia, le sedute, comprese quelle di gioco, potrebbero aiutare. Sarebbe bello se poteste portare la bambina da qualche parte, come al mare. Al momento è molto occupato, sospirò l'uomo. So che è una cosa terribile da dire. Ma dopo la morte di mia moglie, sto finalmente entrando nella routine. Inoltre, ho un importante viaggio da fare in arrivo. Non c'è modo di cancellarlo. Ma quando tornerò sarò meno impegnato. Allora mi assicurerò di allontanare Alice da tutto questo. Non rimandare, Mike, sospirò Lily. La salute di Alice è la cosa più importante. Sì, capisco. Prometto che non appena avrò risolto tutto, lo farò. Ora se volete scusarmi. Devo andare a correre. Ok, vado in camera mia. Alice sta leggendo in questo momento. Per ora la lascio sola. Mi raccomando, passa dopo l'allenamento. Lily se ne andò, lasciando Mike da solo. L'uomo rimase un po' a pensare. Poi andò a cambiarsi per andare a correre. Ultimamente si era appassionato alla corsa serale. Lo aiutava a scaricare la tensione accumulata durante il giorno e a dormire meglio. Al mattino non c'era tempo per correre. Ma la sera dopo il lavoro di solito si recava nella foresta e attraversava i sentieri di Pini prima che facesse buio. Quando usciva dal cancello, Mike aspirava con il naso l'aria profumata di resina. Ogni volta sceglieva un nuovo percorso. Questa volta decise di percorrere la strada più lunga. La stessa che aveva seguito all'inizio della primavera quando la neve si era sciolta. Dopo una dozzina di chilometri, l'uomo si fermò per riprendere Fiatò. Fese qualche squat, allungò i muscoli, quando all'improvviso sentì di nuovo un suono simile al pianto di un bambino. Che cosera? Di nuovo e nello stesso punto, pensò l'uomo. È davvero un uccello che ha fatto il nido qui? Di solito è il verso degli uccelli che vivono nelle paludi. Ricordo che quando io e William andammo a caccia mi spaventai quando sentì qualcosa del genere. Era solo un piovanello. Ma qui non ci sono paludi e avrei giurato che fosse un bambino vero. Il pianto si ripetè. La sorgente era vicina. Mike era curioso. Questa volta decise di non chiamare nessuno, per non spaventarli, ma di andare a cercarla da solo, per essere sicuro di non avere allucinazioni. Mike ascoltò. I pini tintinnarono, ondeggiando nel vento. Da qualche parte in lontananza, un picchio beccava il becco e piccoli uccelli cinguettavano. All'improvviso sentì una voce di donna. La voce era silenziosa. Non riuscì a distinguere le parole. Ma sicuramente non era un'allucinazione. Mike accovacciato seguì un sentiero sottile. Si diramava dalla strada principale e attraversava un alto cespuglio. L'uomo faceva attenzione a non calpestare i rami secchi. La voce si fece più forte e ora Mike era sicuro di sentire una donna. Sì, sarebbe divertente se si trattasse di una vicina di casa che è corsa qui e sta parlando al telefono. E io la sto sorvegliando tra i cespugli. Mike rise tra sé e sé. Non c'è problema. Se la spavento, mi scuserò immediatamente. Era quasi buio. Il sentiero cespuglioso finì improvvisamente e Mike vide una piccola radura, al centro della quale si trovava una vecchia capanna di legno. L'unica finestra dell'edificio brillava debolmente. L'uomo si bloccò e si rimise in ascolto. Evidentemente, la donna di cui aveva sentito la voce poteva essere nelle vicinanze. Strano, pensò Mike. Ho vissuto qui così a lungo. Ho evitato l'intera foresta. Questa era la prima volta che vedevo la vecchia. La foresta è in un posto diverso. Ma come faccio a sapere quanti ce ne sono nei dintorni? Dalla casa giunse il pianto di un bambino. Mike rabbrividì. Questa volta era sicuro di non esserselo immaginato. May, non piangere, bambina mia. Una voce di donna risuonò. Mike, nascosto dall'oscurità, si avvicinò silenziosamente alla capanna e sbirciò attraverso la finestra luminosa. L'interno era un'unica stanza. Nell'angolo c'era una stufa. Nell'angolo opposto una vecchia branda coperta da un materasso a righe e da un mucchio di stracci. Al centro c'era un tavolo di legno, sul quale c'era una ciotola con una candela che illuminava la stanza. Su una panca bassa sedeva una bambina che si inghiozzava sommessamente. Una donna era in piedi accanto a lei e si torceva le mani. Improvvisamente si voltò verso Mike e notandolo gridò. La bambina reagì al grido della madre e pianse ancora più forte. L'uomo si allontanò dalla finestra, ma tornò subito in sé e bussò alla porta. Non aver paura, gridò. Non ti farò nulla. Ma chi sei? Una voce giunse dall'altra parte della porta. Cosa vuoi qui? Abito qui vicino. Stavo correndo e ho sentito piangere. Ho pensato di vedere se avevi bisogno di aiuto. Se ne vada. Stiamo bene. Si poteva sentire la paura nella voce della donna. Ok, mi scusi se l'ho disturbata, disse Mike. Il suo intuito gli disse che la donna stava mentendo e che non c'era nulla di sbagliato. Il bambino piangeva per un motivo. E la cosa più importante era chi fossero e cosa stessero facendo in quella portineria abbandonata. E non c'era dubbio che la portineria fosse abbandonata. Il portico era marcio, c'erano tavole dappertutto, un vetro della finestra era rotto e frettolosamente ricoperto di compensato. C'era qualcosa che non andava, notò Mike mentre si allontanava dalla casa verso i cespugli. I due uomini non sembravano del posto. La ragazza era vestita di stracci e la donna era sporca e con qualche straccio. Vivono qui? Non è possibile. La guardia forestale avrebbe notato che nel villaggio vivono così tante persone che non gradirebbero un quartiere del genere. No, io torno indietro. Guarda, Mike ha bussato di nuovo a quella porta inconsistente. Non sono affari miei, ma non credo che tu stia bene. Forse posso fare qualcosa per aiutarti. Vada via, per favore, disse la donna. Sta spaventando mia figlia. Ma non le farò nulla. Le ho detto che abito qui vicino. Non abbia paura. Crede che le crederò così facilmente? E se fossi una specie di mostro? Ho un bambino piccolo qui. Donna, ascolta, pensi davvero che un pazzo sarebbe gentile con te? Questa porta non vale un solo calcio. Se avessi in mente qualcosa, non andrei fino in fondo. Non ho idea di chi lei sia o di cosa sia successo. Ma è ovvio che questa casa non è tua. Non so come abbia fatto il guardia caccia a non accorgersi che qui vivono dei vagabondi. Ma tenga presente che se si imbatte in lei, non finirà bene. Mike non sapeva se stava rassicurando la donna o se la stava intimidendo ancora di più. Ma ora non poteva più fermarsi. Anch'io ho una figlia piccola, continuò l'uomo. E so che se piange è per un motivo. Ve lo ripeto, si è sentita la voce di una donna. Andate via. Non vogliamo niente. Ce ne andremo presto per non disturbare nessuno. Ti dirò cosa ripensandoci, ha suggerito Mike. Non abito molto lontano da qui. Non è lontano, sono circa 10 chilometri. Di solito vado a correre la sera, ma non percorro spesso questa strada. Domani non sarò qui, quindi non si preoccupi. E non dirò a nessuno che ti ho visto qui. Se hai paura di me, non ti farò cambiare idea. Ma non sono uno stupido e capisco che sei nei guai. Se non pensi a te stesso, pensa alla bambina. Vieni a casa mia. Se prendi il sentiero grande, non svoltare. Andrai dritto al cancello posteriore. Suona il campanello e di che sono Mike. Riesci a sentirmi? Un bambino non deve stare nel bosco. La donna non rispose. Mike rimase fuori dal cancello ancora per un po', ma capisce era inutile aspettare. Inoltre, si stava facendo buio, illuminando la strada con la torsia del telefono. Si diresse verso la strada. Dopo aver corso per un po' nell'oscurità totale, vide la luce delle lanterne che illuminavano i vicoli della foresta più vicini al villaggio. Presto vide il suo cancello. Aprendolo, Mike rimase a lungo nel giardino. Guardando il cielo notturno, erano visibili diverse stelle luminose, ma l'uomo non riusciva a ricordarne il nome. Mike, la voce del capo del servizio di sicurezza, suonava dolce, senza esprimere alcuna emozione. Mi dispiace di averla svegliata. Ecco come stanno le cose. Buongiorno. Cosa c'è? Mike si scrollò di dosso i resti del sonno e guardò l'orologio. Erano circa le 7 del mattino. Raramente riceveva chiamate dalla stazione di sicurezza. Di solito era Mary a occuparsi di tutte le domande. Ma Mike si ricordò improvvisamente che ieri pomeriggio era andata a casa della figlia e che sarebbe dovuta tornare solo verso l'ora di pranzo. C'è una zia al telefono che dice di essere qui per vederti. Quale zia? Mike borbottò infelicemente. Una sgualdrina. E ha con sé una bambina, che dice che Mike le ha detto di venire. Sta chiamando dal lato del cancello della foresta. Mike finalmente si svegliò. Si rese subito conto che la visitatrice era la donna che aveva incontrato ieri nel bosco. Deve aver ascoltato ed essere venuta a chiedere aiuto. Alex, falla entrare. Dille di aspettare nel gazibo. Io scendo subito. Mike, sei sicuro? Non sono affari miei, ma è ovvio che c'è una senza tetto lì dentro. Probabilmente è anche una mendicante dei boschi. Non ho idea di come faccia a conoscerti ma... Alex! Alex! Il proprietario lo interruppe nervosamente. Non giudicare mai dalle apparenze. È una persona che conosco, avevamo un accordo. Non sapevo se sarebbe venuta o meno, per questo ieri non ho avvertito nessuno. Sì, capo! Ringhiò la guardia al telefono. Dieci minuti dopo, Mike uscì nel cortile e si diresse verso il gazebo. Una donna, che cullava una bambina, era seduta in fondo al gazebo. Salve! Mike la salutò. Pensavo che non saresti venuto. Per favore, sussurrò la donna. Aiutate mia figlia. Ho paura. Io non sarei mai venuta, ma mai sì. Mike guardò la bambina. Il viso piccolo e sottile era pallido, ma le guance bruciavano di rosso vivo. Toccò la fronte della bambina e allontanò la mano. Tanto era calda la pelle. Sta bruciando. Andiamo dentro. Chiamo il dottore. Abita qui vicino. Se non è ancora partito, verrà subito. Mike prese la ragazza in braccio e si diresse verso la casa. La donna era lenta. Perché sei lì impalato? Forza! Seguimi! La donna esitò ancora un po' e poi la seguì. Lily! Pam! Qualcuno venga qui! Alla voce del padrone, una cameriera uscì di corsa. Oh Mike! La ragazza agitò le mani. Qual è il problema? Pam! Chiama subito Jack. Digli di venire il prima possibile. Nel frattempo portaci delle pillole. Sì. Pam squittì e corse fuori dalla stanza. Facciamo un impacco. Non so che tipo di farmaco dare. La bambina è allergica a qualcosa? No. La madre scosse la testa. Da quanto tempo è così? È malata da due giorni. Ma ieri sera è peggiorata molto. Piangeva così tanto. Avevo paura che ci sentissero. E appena si è fatto giorno sono venuta da te. Non speravo in nulla. Sono abituata a fidarmi delle persone. Quando ho visto la casa volevo tornare indietro. Ma May è la cosa più preziosa che ho. Mi dispiace. Devo averti svegliato per disperazione con tutte quelle guardie. Ha fatto la cosa giusta. Anch'io ho appena perso mia moglie. So cosa significa perdere la persona che ami di più. Mi dispiace per la sua perdita. Disse la donna con un occhio solo. Pam entrò nella stanza portando con sé un kit di pronto soccorso. Mike, non so cosa ti serva. Ho portato tutto. E Jack ha detto che sarà qui tra quindici minuti. Grazie Pam. Per ora sei libera di andare. Ti chiamo se ho bisogno di qualcosa. Mike aprì la scatola e tirò fuori un antipiretico. Versò dell'acqua dalla brocca sul comò in un bicchiere. Spezzò una compressa a metà e la porse alla donna perché la desse alla figlia. Questo antipiretico sembra funzionare sempre. Spero che almeno faccia scendere la febbre. La ragazza prese obbedientemente la pillola. In quel momento Jack entrò in casa. Beh, Mike, qual è il problema? Pam era così spaventata che non riusciva a spiegare nulla. Per fortuna non ho ancora avuto modo di partire. Dov'è Alice? Ecco. Mike scrollò le spalle colpevolmente. Alice è nella sua stanza. Non è lei il problema. Chi è? Si chiese Jack. Mike condusse il dottore nel soggiorno dove una donna trasandata e sudicia e il suo bambino erano seduti sul divano. La bambina si è ammalata ieri sera. Era malata da un paio di giorni, secondo la madre. Capito. Jack annui. Va bene, Mike. Ci lasci in pace. Devo controllare la ragazza. Vai a fare una passeggiata. Mike uscì, chiudendosi la porta alle spalle. Alzò lo sguardo e vide un paio di occhi curiosi e infantili che lo osservavano con attenzione. Alice, cosa fai in piedi così presto? La ragazza, vedendo che il padre l'aveva notata, tornò di corsa nella stanza. Mike sentì persino lo scatto della serratura della porta. Gesù, cosa sta succedendo, pensò. Alice si comporta in modo strano. Soce è malata, ma almeno è riuscita a reagire a me. E la donna con il bambino, vorrei solo c'è tutto sparisse. Mike chiamò l'ufficio per dire che sarebbe arrivato in ritardo. Jack aprì finalmente la porta e uscì dal soggiorno con la sua valigetta. Non è niente, fece un cenno alla ragazza. È solo un raffreddore a quanto pare. Ho appena fatto analizzare il sangue e lo avrò pronto per voi questa sera. Ora vado al lavoro e glielo porto. Per ora le ho dato una polvere. La temperatura dovrebbe scendere. Deve riposare e bere molta acqua. È molto malnutrita. Chiedi a Mary di prepararle del brodo. Le ho anche prescritto dei farmaci che la aiuteranno rapidamente. Grazie Jack. Mike era così felice. Grazie per essere venuto con così poco preavviso. Ascolta Mike, aggiunse il dottore in un sussurro. Chi sono questi vagabondi? Non lo so. Che cosa intende dire? Jack era sorpreso. Li ho incontrati per caso nel bosco, non potevo passare oltre. Ho pensato di aiutarli. Tutto qui? Sei un brav uomo, Mike. Non molte persone si fermeranno ora e si offrono di aiutare un senza tetto come lui. Lo rispetto. Va bene, tornerò stasera. Non lasciarli andare da nessuna parte per ora. Se la ragazza non si riprende, non sopravviverà per strada. E poi, la strada è un posto adatto a un bambino. Un essere umano in ogni caso. Mike tornò in salotto dove i suoi ospiti stavano aspettando. Come si chiama? Chiese alla donna. Olivia, annusò lei. E sua figlia si chiama May. Lo so. Annui l'uomo. Ecco come stanno le cose, Olivia. Ora ce ne andiamo. Grazie mille per il suo aiuto. Mike la guardò con estrema serietà. Non osare nemmeno pensare di tornare nel bosco finché la ragazza non starà abbastanza bene da restare qui. C'è un sacco di spazio nella casa degli ospiti. Ma non posso. Olivia cercò di resistere. Forse non puoi. Ma May ha bisogno di riposo a letto, di cure e di una buona alimentazione. Pensa al bambino. Non mi ostacolerai. La porterò dentro e le farò fare un giro. E Mary tornerà per l'ora di pranzo. Questa donna ti aiuterà a sistemarti. È un patto. Inoltre, ho promesso a Jack di tenerti d'occhio e lui tornerà stasera per controllarti. Se non è troppo disturbo. La donna sussurrò. Mike portò gli ospiti in un piccolo cottage in fondo al giardino. Era destinata a gli ospiti. Anche se di solito questi ultimi rimanevano sempre nella casa del padrone. Natalie aveva sempre detto c'è un giorno sarebbe stata utile. Da tempo era diventato una specie di scherzo di famiglia. Un tempo avevano provato a mettere qui una cameriera fissa. Ma non si rivelò così conveniente. Di conseguenza la casa rimaneva vuota. Anche se le stanze venivano pulite regolarmente. Mike sospettava anche che la cameriera di Pam a volte portasse qui il suo ragazzo. Ma non l'aveva mai rimproverata. Lui stesso si ricordava di quando era giovane e lui e Natalie dovevano incontrarsi in angoli casuali a casa di conossenti. Olivia, fai come se fossi a casa tua. Dirò a Pam di portarti subito la collasione. Hai qualche ricesta. Che cosa vuoi? La donna era in orridità. Come potrei avere un desiderio. Hai visto dove abbiamo vissuto ultimamente. E non vuoi nemmeno sapere cosa abbiamo mangiato. Ora vado a lavorare. Dirò a Mary di venire ad aiutarti appena arriva. Non uscire di casa. Se hai bisogno di qualcosa, non esitare a dirlo a Mary. Ok. Olivia annui. Come promesso, Mike chiamò la governante e le spiegò brevemente la situazione. Mary naturalmente si lamentò e si lamentò. Ma non giudicò Mike e promise di mettere gli ospiti al loro agio il più possibile. La sera Mike tornò molto tardi. C'era molto più da fare di quanto avesse capito. Mary lo accolse immediatamente. Mike mi hai sorpreso naturalmente. Cosa fai in piedi così tardi? Lily ha già messo a letto Alice. Quindi non andare da lei. Ok. Mike annui stancamente. Come stanno i nostri ospiti? Oh, sembrano stare bene. Jack si avvicinò e diede un'altra occhiata alla ragazza. La medicina la fa stare meglio. Dovrebbe vivere nei boschi per mesi in questo modo. Qualche mese. L'uomo era sorpreso. Non ha nemmeno parlato con Olivia. Sì, stamattina andavo di fretta e non ho avuto il tempo di chiedere. Senti, le ho portato le vecchie cose di Natalie. Sai, il suo vestito, le sue scarpe da ginnastica, e anche i vestiti da ragazza di Alice. Perché sono stracciati. Non è niente di che. Sai che ti ho dato carta bianca. Almeno hanno mangiato. Sono così magre. Parla tu stesso con quella donna. Non voglio renderti partecipe dei problemi di un'altra persona a sua insaputa. Ok, ma a quest'ora staranno dormendo anche loro. Mangio un boccone veloce e poi vado a riposare. Sono così stanca oggi. Grazie a Dio sto bene. Mary, ascolta, dopo domani devo partire per un viaggio di lavoro. Assicurati che non vadano da nessuna parte finché May non si sarà completamente ripresa. Va bene? Le parlerò domani, naturalmente. Ma è lei che comanda. Quindi? Nessun problema, Mike. Dopo la cena e una doccia, l'uomo andò in camera da letto. Le finestre della sua stanza si affacciavano sul giardino, offrendo una buona vista sulla casa degli ospiti. Le finestre erano buie. Olivia e sua figlia dormivano. Mike rimase a lungo davanti alla finestra guardando il giardino notturno. Tutto intorno a lui era così sereno. La notte di giugno era così fresca e il cielo era punteggiato di stelle. Mike non pensava a nulla. La mattina presto andò a casa di Alice. La ragazza, come al solito, si era ciusa in camera. Aprendo la porta con la sua chiave, l'uomo entrò nella camera della figlia. Lei era seduta alla finestra e guardava il giardino. Figlia, buongiorno, salutò il padre. Alice si limitò a girare leggermente la testa nella sua direzione, come al solito, senza rispondere. Domani parto, continuò Mike. Starò via solo un paio di settimane e quando tornerò voglio farti un piccolo regalo. Io e te, solo io e te, andremo al mare. Mike pensò che Alice avesse un sussulto. Almeno questa è una reazione. Pensò. O forse mi sono sbagliato. Che Dio ci aiuti. Non posso vivere con il mio bambino che muore. Che altro posso fare? Nessun farmaco può aiutare e la terapia non funziona. Alice si è chiusa in se stessa. Mangia così poco che è quasi trasparente e non risponde. Almeno legge i libri. Ma non basta. Lily dice che sta facendo progressi. Ma io non riesco a vedere nulla. Certo, negli ultimi mesi non ho passato molto tempo con Alice. Ma il lavoro è lavoro. Non posso chiudermi in casa. Almeno in questo modo mi sto lentamente adattando alla mia nuova vita. Ma Alice. Ok, gattina, io vado. Stasera sono a casa. Se vuoi venire da me, mi piacerebbe stare con te. Il tempo è così bello là fuori. Potremmo andare nel bosco. Dovresti vedere quanti scogliattoli ci sono. Ti ricordi che gli davi da mangiare? Mike fece una pausa. Temeva che nominare Natalie potesse scatenare nella ragazza un'altra ondata di emozioni che lui non avrebbe mai visto. Così, con sicurezza, teneva tutto per sé. Uscì silenziosamente dalla stanza della figlia e scese al piano di sotto. Mary salutò allegramente la donna all'ingresso. Buongiorno. Mike, buongiorno. Sono appena stato da Alice. Le ho detto che sarei partito domani. Non ha reagito. Ma su consiglio di Lily ho deciso di portarla al mare dopo il viaggio di lavoro. Credi che servirà a qualcosa? Ragazzo mio. La donna sorrise. Il mare non ha mai fatto male a nessuno. Certo, entrambi avete bisogno di andare via e di riposare. Hai deciso dove andare? No, in un viaggio di lavoro cercherò e prenoterò i tour, in modo da potermi preparare appena arrivato. E Olivia? Sei già andato a trovarla? Sì, le farebbe piacere vederti. Me l'ha detto. Quindi se hai tempo, vai a trovarli. Mike andò in giardino. Il tempo era bellissimo. Non poter resistere a togliersi le scarpe da ginnastica per camminare a piedi nudi sul prato. L'erba era molto morbida e ancora un po' umida di rugiada. Fischiettando, l'uomo si diresse verso la casa degli ospiti. Bussò alla porta. Olivia aprì all'istante come se lo stesse già aspettando. Buongiorno Mike. La donna lo salutò. Indossava la vecchia tuta da ginnastica di Natalie. Mike notò tra sé e sé che le donava, ma era attraente con i capelli lavati e pettinati, anche se il suo viso era molto magro, sparuto e triste. I capelli di Olivia erano dello stesso colore di quelli di Natalie. Solo che la donna li aveva raccolti in una coda di cavalo, mentre la defunta Mogli aveva preferito portarli siolti. Come sta andando? Sono tornata a casa tardi ieri sera. Mi dispiace di non essere potuta venire. Non so come ringraziarla, disse velocemente la donna. Non credo nei miracoli da molto tempo. Ma quello che è successo ieri, non posso chiamarlo in altro modo. Non so se Maria ha raccontato la mia storia. Quella donna sa come rispettare la vita degli altri e mantenere i segreti meglio di una cassaforte di una banca svizzera. Mi creda, non mi ha dato uno straccio di informazione. A parte il fatto che hai vissuto nel bosco per mesi. Sì, Olivia arrossì vistosamente. Forse potremmo fare una passeggiata in giardino e tu potresti raccontarmi tutto, suggerì Mike. Olivia accettò con piacere. Tanto May ora dorme. Ha preso le medicine e non si sveglierà prima di un paio d'ore. Bene, sorrise Mike, lasciando che la donna scendesse dal portico. Non so nemmeno da dove cominciare. La mia storia non è delle più interessanti. Probabilmente è difficile per voi capire come una giovane donna con un bambino in braccio sia finita per strada. La vita ha un modo di fare scherzi oscuri. E io, nonostante quello che ho, so bene che il destino può prendere una piega brusca in qualsiasi momento. Ma non c'è nulla di fantastico nella mia storia. Tutto è banale. Mio marito, o meglio, il mio coinquilino, è un bastardo. Purtroppo, per mia stupidità, me ne sono accorta troppo tardi, quando ho dato alla luce suo figlio. Prima della nascita di May, tutto andava bene. Un buon lavoro, una casa mia, persino una macchina. Ma appena è nata mia figlia, Mike, mio marito, mi ha proibito di uscire di casa. Non so cosa gli passasse per la testa. Quest'uomo è passato da gentile e amorevole a un vero e proprio tiranno. Mi umiliava continuamente, era geloso. Scandali, scandali, scandali senza fine. E poi Mike non beveva mai. Era sempre in dialogo. Ma si mise con una società. E da quel giorno tutto andò a rotoli. Ha iniziato a tornare a casa sempre ubriaco. E le minacce verbali sono diventate presto fisiche. Mi picchiava senza pietà. Non ho famiglia, solo una zia. Ma vive molto lontano e non le importa nulla di me. Avevo degli amici ma lui mi ha tagliato fuori e mi ha proibito di socializzare tutto qui. E questo è stato un bene per Tim. Sapeva che non avevo un posto dove andare. Abbiamo comprato un appartamento insieme, vendendo quello vecchio. Ho sopportato le botte. Ora non so perché mi intimidisse così tanto da farmi temere di andare alla polizia. I vicini si sono fatti avanti e non potevano più sopportare le urla. Ma anche dopo non ho sporto denuncia contro mio marito. Dopo che la polizia se ne andò, lui mi imbavagliò e mi picchiò ancora più forte. Ho potuto bere acqua solo per una settimana e poi attraverso un tubo. E poi sono arrivate quelle persone spaventose dei servizi sociali. Volevano portare via me. Ero così spaventata, capendo che mi avrebbero portato via il mio bambino e forse la mia vita. Decisi di scappare, aspettando che Tim se ne andasse. Ho messo in valigia alcune cose, soldi. Ma ne avevo davvero pochi. Non teneva contanti a casa, me li dava solo per la spesa. Feci le valigie, presi mei, e me ne andai. Non sapevo nemmeno dove andare. Presi una piccola stanza, ma ci vivemmo solo per un paio di settimane. Trovai un lavoro come lavapavimenti in un ufficio qui vicino. Non era il lavoro più prestigioso, ma erano soldi. Stavo tornando a casa dal mio turno quando vidi la macchina di mio marito. Stavo accostando al vialetto. Grazie a Dio l'ho visto. Ma anche lui mi ha vista e sono tornata a casa in fretta. Lui ha dovuto fare il giro. Ho guadagnato tempo. Corsi nell'appartamento. Non dissi una parola. Afferrai mei. E la prima cosa su cui riuscii a mettere le mani. Non chiusi nemmeno la porta a chiave. Mi resi conto che se Tim ci avesse raggiunto, ero morto. Grazie a Dio la nostra casa aveva una porta sul retro. Potevo sentire Tim che entrava dalla porta principale. Quando si conosce qualcuno da molto tempo, lo si riconosce dai suoi passi. Rimasi nell'anticamera, senza fiato e con la mano sulla bocca di May. È stato un tale orrore. Appena lo sentii salire al primo piano, saltai fuori dall'anticamera e mi misi in salvo. Era l'inizio di aprile. Vivere per strada sembrava impensabile. Mi sentivo completamente persa. L'unica persona a cui potevo chiedere aiuto era la donna per cui lavoravo. Mi fece passare la notte e poi si offrì di ospitarmi nella sua casa con giardino. La cooperativa di giardini si trovava in periferia. Eravamo d'accordo che non avrei dovuto pagare l'affitto. Potevo andare al lavoro in treno. Potevo portare May con me. All'epoca sembrava conveniente. Ma è successo il peggio. Non riuscì a vivere così nemmeno per una settimana. Venne fuori che Tim ci aveva rintracciato. Ci seguì fino a casa. Mi è capitato di vederlo dalla finestra. Bussava alla porta in quel modo. Grazie a Dio sono arrivati dei vicini e lo hanno cacciato, minacciando la polizia. Ma sapevo che sarebbe tornato. E allora ho fatto probabilmente la cosa più stupida che abbia mai fatto in vita mia. Ho preso May e sono andata nel bosco con lei. Non sapevo cosa stessi facendo. Era come se stessi impazzendo. Lei continuava a chiedere alla mamma. Dove stiamo andando? Non sapevo nemmeno cosa rispondere. Ho solo sorriso. Camminammo a lungo. Mia figlia piangeva per la stancezza. Poi l'ho presa in braccio e l'ho portata. Poi arrivammo a quella portineria. Avevo paura di rimanere lì per un po', ma c'erano legna e fuoco. Almeno eravamo al sicuro e al caldo. Avevo ancora qualche soldo. Andai in città a mio rischio e pericolo, lasciando May da sola. Comprai dei cereali e del cibo in scatola che mi sarebbero bastati per molto tempo. Allora non pensavo al futuro, solo al presente. E vivemmo lì per tre mesi. Avevo sempre paura che la guardia forestale, i barboni o chiunque altro venisse a cacciarci da lì o qualcosa di peggio. Poi May si ammalò. Non avevo un soldo per le medicine. Avevamo quasi finito la spesa. Immaginate il mio orrore quando ho avuto un ospite inatteso. Ma decisi di correre il rischio e di andare dove mi avevi detto di andare. Avevo tanta paura per May. Mi davo la colpa di tutto. Immagino sia stato il fatto che mi hai detto di avere anche una bambina. A proposito, dov'è? Alice è malata. Questo è tutto ciò che Mike disse, leggermente scioccato da ciò che aveva sentito. Non aveva mai immaginato che una cosa del genere fosse possibile nel mondo moderno. Era abituato agli agi, ai soldi, alle persone fedeli e vicine alla legge. Sentire che da qualche parte accadeva una tale ingiustizia era assurdo. Ma era ancora più stupito che, spinto dalla paura, un uomo sia completamente privo di buonsenso. Cosa c'è che non va in lei? Chiese spaventata la donna. Mia figlia ha un grave disturbo mentale. Almeno questo è ciò che i medici cercano di convincermi. Vede, mia moglie è morta all'inizio di aprile. Mia figlia, che ha solo sette anni, è caduta in questa condizione. Come posso dire? Si è chiusa in se stessa, non parla con nessuno, non mangia quasi nulla e non esce dalla sua stanza. Uno psicologo lavora con lei ogni giorno, ma non serve a nulla. Sto per partire per un viaggio di lavoro per un paio di settimane. Poi tornerò e sto progettando una gita al mare con lei. Forse in un ambiente rilassato, solo noi due, potremo superare le difficoltà. Mi dispiace per la sua perdita, disse Olivia con gli occhi bassi. Le dirò una cosa. Ci vuole tempo. La ragazza ha perso la madre. È un lutto terribile. In questo momento è bloccata nella negazione. Sono una psicologa di formazione e lavoro con i bambini da molto tempo. Ho affrontato casi di ogni tipo. Quello che le dicono gli esperti può essere vero. Ma potrebbe essere più semplice di così. A sua figlia manca semplicemente l'amore di una madre. Qualunque psicologo o psicoterapeuta non abbiate assunto. Se non riesce a dimostrare sufficiente pazienza, tutto inutile. La professionalità da sola non basta. Una bambina ha bisogno di amore. Non di tutte queste nuove tecniche di gestione dello stress. E certamente non di farmaci. Lei è il primo ad essere contrario alle pillole. Mike sorrise. Persino Mary mi sta convincendo a prendere le medicine per Alice. Ma ecco la cosa strana. Mi hai appena raccontato la tua storia. Ma sono confuso su come sia venuto fuori che lo psicologo non sia riuscito a superare il suo stesso problema. Conosci l'espressione popolare, ciabattino senza stivali. Non c'è bisogno di pensare che uno psicologo sia in grado di essere un dio. Risolviamo facilmente i problemi degli altri, ma spesso non riusciamo a risolvere i nostri. Non c'è spiegazione per questo. Ma molte persone che esercitano la nostra professione spesso cercano loro stesse un aiuto psicologico. È sempre più facile vedere un problema dall'esterno e risolverlo che dall'interno. Ascoltate questo. Mike si ricordò improvvisamente. Hai detto che vivi nel bosco da aprile. Beh sì, corro sempre. Ma c'è stata una pausa durante l'inverno. Dopo il funerale, ho deciso di ricominciare a correre. Ed è stato allora che ho sentito un bambino piangere nel bosco. Non era lontano dalla portineria. Ma poi ho pensato che mi stavo immaginando tutto. Avrei dovuto provare a cercarti allora. Ma meglio tardi che mai. Sai Olivia, per ora vivi qui. Se hai un lavoro, puoi chiedere al mio autista Andrew di portarti in città. È il suo lavoro. Non c'è bisogno di stare stretti. La bambina sarà accudita qui. Se ha bisogno di aiuto per trovare un lavoro, vedrò di trovare una soluzione dopo il mio viaggio di lavoro. Qui sarete al sicuro. Le mie guardie non permetteranno mai a quel team di entrare nella proprietà. Dopo aver offerto questo, Mike se ne andò subito, senza dare alla donna la possibilità di rispondere. Non li visitò più per il resto della giornata e la mattina presto, dopo aver salutato Alice, partì per l'aeroporto. Il tempo volò velocemente. Mike tenne tutte le riunioni necessarie e concluse diversi contratti vantaggiosi anche prima della scadenza. Ora la rete del suo caffè si estenderà ad altre città. L'uomo non era particolarmente entusiasta. Se fosse stato responsabile solo di se stesso, avrebbe mandato tutto al diavolo molto tempo fa. Ma c'era Alice. E c'erano tutte quelle persone che lavoravano per lui. Facevano i loro progetti. Volevano vivere. Solo per questo, Mike aveva trovato la forza di andare avanti e di evolversi. Natalie ne sarebbe stata felice. Lei era quella che non riusciva mai a stare ferma. Il movimento e lo sviluppo erano la sua essenza. All'aeroporto Mike fu accolto dal suo autista personale, Andrew. Vedendolo da lontano, Mike lo salutò con la mano. Avvicinandosi ad Andrew, notò che il volto dell'uomo era letteralmente raggiante. Perché sembri un gatto? Sorrise Mike. Quando arriveremo a casa lo vedrai da te, Mike. Non mi piacciono gli indovinelli. Dai, dimmelo. Non posso, Mike. Mary lo ha severamente vietato. Oh mio Dio, esclamò Mike. Chi paga il tuo stipendio? Io o Mary? Va bene, resisterò. Quando l'auto entrò nel cancello, Mike sentì subito che qualcosa era cambiato. Da qualche parte nel giardino proveniva la risata di un bambino. Andrew, notando lo sguardo diffidente del capo, gli fece un occhiolino incoraggiante. Mike scese dall'auto e andò subito in giardino. Alice rideva felice e dondolava la piccola May sull'altalena. La bambina strillava allegramente ogni volta che l'altalena saliva verso l'alto. Mike osservava la scena, incapace di muoversi. All'improvviso Olivia uscì da dietro la casa. Indossava una tuta da lavoro e dei guanti, completamente ricoperti di terra nera. Tra le mani teneva una piccola pala e un sacco. La donna fu la prima a notare Mike. Agitò la pala verso di lui in modo amichevole. Questo movimento non sfuggì agli occhi di Alice. Si girò bruscamente. Anche da lontano Mike vide gli occhi di sua figlia illuminarsi. Papà! gridò con tutte le sue forze e si precipitò verso il padre. Sei tornato? Mi hanno detto che saresti tornato tra qualche giorno. Al più presto. Mike prese in braccio la figlia e cominciò a farla girare. Oh mio Dio, gattina, stai parlando? Alice! Le lacrime sgorgarono dagli occhi di Mike. Cosa c'è? Che cosa è successo? Chiese sorpreso alla figlia. Ma lei rispose ridendo, arrossita e soddisfatta di aver finalmente abbracciato suo padre. Te l'avevo detto, disse Olivia sorridendo. Alice aveva bisogno di amore. Ma... Ho visto Olivia dalla finestra. Alice balbettò. Era passato così tanto tempo dall'ultima volta che Mike aveva sentito la sua voce che non riusciva a credere che fosse reale. All'inizio ho pensato che fosse mia madre dal retro. Le assomigliava molto, vero Olivia? È solo che indossavo lo stesso vestito. Ho portato May in giardino per prendere un po' d'aria. Mary ha detto che andava bene. Sì, Alice ha interrotto. Per molto tempo non ho creduto ai miei occhi e ho persino gridato fuori dalla finestra. Mamma! Ma quando Olivia si girò, mi resi conto che non era affatto lei. Allora cominciai a piangere. Olivia iniziò a calmarmi e mi invitò a unirmi a loro. All'inizio non volevo, ma lei mi guardò con tanta gentilezza, non come Lily. E ad essere sincera, ero così gelosa di May. Allora non sapevo che si chiamasse così. Lei si muoveva. E io sono seduta in questa stanza soffocante. E tu non sei venuto da molto tempo. Mi sentivo così sola. Così sono uscita. E Olivia mi ha invitato a prendere il tè. Perché non mi hai detto che c'era qualcuno che viveva nella casa degli ospiti? Non me l'hai chiesto. Papà ha sorriso. Papà, per favore, chiedi a Olivia di restare con noi ancora un po'. Mi piace tanto parlare con lei. Non mi tratta affatto come una bambina. Persino Mary mi considera una bambina. e Olivia. Vedo che siete diventati veri amici, vero? Mike era sorpreso. Olivia, non potrò mai ringraziarti abbastanza per aver fatto accadere un miracolo. Nessun miracolo. Ti ho detto che devi trovare un modo per avvicinarti a un bambino. E Alice è una bambina molto intelligente. Abbiamo subito legato alla pari. Non capisco perché si debba coccolare una bambina. Alice capisce più di molti adulti. Aveva solo bisogno di parlare con qualcuno che la ascoltasse, capisce? E io avevo tutto il tempo e la voglia di farlo. E l'umore di May può essere alleggerito facilmente. Sta dicendo che è così semplice. Perché devi renderlo così complicato? Le persone si creano un sacco di problemi e prendono strade così tortuose per raggiungere i loro obiettivi che si dimenticano cosa stanno facendo. Appena ho visto Alice, ho capito che era spaventata e sola. E il miglior rimedio sono le risate e la buona compagnia. Papà, improvvisamente sconvolto, Alice disse. Sì, gattina. Papà, dimmi, ora che sono guarita, non andiamo al mare? Sciocchina. Mike rise. Adesso dobbiamo andare al mare. Allora vai dentro. Olivia si voltò verso di loro. Si rese conto che padre e figlia avevano bisogno di stare da soli. Sarete stanchi per il viaggio. Potete parlarne lì. Io torno subito e vi raggiungo. La donna rise. Perché sei sottoterra? Chiese Mike. Beh, le aiuole non possono badare a se stesse e io sono felice di coltivare fiori. La donna sorrise con modestia, ma poi si rese conto che non potevo starmene con le mani in mano con il permesso di Mary. Lo ha suggerito lei. Se ho fatto qualcosa di sbagliato, mi dispiace. Oh, andiamo, Olivia. Puoi fare tutto quello che vuoi qui, adesso. Non so come ripagarti per averci aiutato. Bene per bene. La donna guardò dritto negli occhi di Mike. Quando Mike stava per portarla davanti alla casa, lei gli sussurrò qualcosa all'orecchio e saltò abilmente a terra. Con un sorriso sornione al padre, tornò a correre verso i suoi nuovi amici. Olivia annunciò con un sussurro teatrale. Non ditelo ancora a nessuno, ma tu e me i verrete al mare con noi.